Uno scontro legato ad una donna che interessava ad entrambi. Per questo motivo un ragazzo di 21 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per tentato omicidio. Il tutto è avvenuto nella zona di via Argine dove un 24enne viene tamponato e lasciato a terra da un'auto che scappa dopo l'incidente. Per qualche ora si è pensato ad un pirata della strada, poi sono iniziate le indagini degli uomini dell'arma. I carabinieri hanno precisato la versione dei fatti rispetto a quella fornita in mattinata in riferimento all'investimento del giovane 24enne. Dai successivi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Poggio Reale, dopo le prime notizie sull'accaduto è emerso che in realtà tra i due non c'era mai stata una relazione sentimentale, ma che il reale motivo dell'investimento fosse legato ad una donna che interessava ad entrambi. I militari hanno rintracciato il 21enne nella sua abitazione in provincia di Napoli dove è stata anche rinvenuta e sequestrata l'auto con la quale avrebbe investito il 24enne. L'uomo, trasferito all'ospedale del mare, è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Per l'arrestato si sono aperte le porte del carcere in attesa di giudizio.